buongiorno da max effetto max oggi vi parleremo di come rallentare o fermare la caduta dei capelli in qualsiasi periodo dell'anno è opportuno intervenire con un percorso anticaduta le cause sono molteplici una in particolare il cambio di stagione parlando con i miei clienti ci siamo resi conto del problema e abbiamo deciso di intervenire immediatamente con il nuovissimo percorso intensivo di mofosis fra mesi per simone utilizzeremo lo shampoo rinforzante particolarmente indicato nel trattamento dei capelli maschili questo shampoo con estratti di cellule staminali della vite ha un potere lenitivo rinfrescante ma soprattutto seboequilibrante per vera utilizzeremo lo shampoo densificante particolarmente adatto per capelli femminili con estratto della cellula staminali della mela lenitivo e rinfrescante entrambe le cellule staminali favoriscono la longevità delle cellule della cute e del follicolo massaggiamo con cura per favorire la microcircolazione cutanea lasciamo agire per qualche minuto e poi risciacquiamo ora su simone applichiamo mezza fiala di siero attivatore rinforzante favorisce la microcircolazione con un benefico effetto riscaldante e stimola la naturale ricrescita del capello mentre per vera utilizziamo mezza fiala di siero attivatore densificante particolarmente indicato nel trattamento dei capelli femminili protegge la cellula dallo stress ossidativo e ne aumenta la vitalità procediamo con il massaggio veicolante fino al completo assorbimento e ricordiamo ai nostri clienti di continuare il trattamento a casa per mantenere una chioma morbida e fluente nel tempo a presto da effetto max